Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Rision, io sono lo sconosciuto e torniamo con un nuovo video Oggi ho voluto cambiare un po' location, ho voluto fare un video all'aperto per vedere un po' come veniva Se c'erano magari problemi con il rumore del vento, con ovviamente la registrazione della voce Con le luci, ho fatto questo perché voglio durante un po' provare a cambiare un po' inquadratura Mi sono un po' tra virgolette stufato della solita inquadratura che facciamo con i poster dietro, un po' al chiuso E volevo vedere come veniva con questa macchina all'aperto e ne proverò magari in futuro altre Vedremo un po', cercherò sempre ovviamente di mantenere la qualità più alta possibile Poi con la luce naturale in teoria dovrebbe venire bene, ora è anche sparito il sole Ma fra poco c'è una nuvola che dovrebbe spostarsi quindi dovremmo riuscire ad avere un'illuminazione più diretta del sole Vedremo un po' come si vedrà Sta arrivando il caldo finalmente, sta arrivando l'estate, arrivando tra molte virgolette Però sai, noi studenti appena sentiamo un po' di caldo, un po' di sole subito ci agitiamo perché non siamo abituati Abbiamo sistemato e aperto per, tra virgolette, la stagione calda il terrazzo di casa nostra Quindi ho voluto provare questa inquadratura In questo video non parleremo solo di cambi di inquadrature ma anche di altre novità che ci saranno sul canale Infatti, come ho già fatto una volta, voglio raccontarvi quelli che saranno poi i cambiamenti futuri del canale Niente di che, però comunque mi faceva piacere E soprattutto sapere anche come sta andando Quindi scrivetemi nei commenti se siete contenti Se vi piacciono i format che ho portato in questo periodo Se vi è piaciuto il cambio di rotta del canale, più verso il cinema Ma soprattutto vi voglio parlare di quelle che sono delle idee future che ho per nuovi video Oltre al famigerato video della postazione che ancora devo fare E non so se farò più che altro perché lo devo strutturare in una maniera che possa essere un minimo interessante Ma quello è un progetto che se arriverà sicuramente lo vedrete sul canale Mister Ovvio L'altra novità di cui vi volevo parlare è una cosa un po' particolare Che riguarda sempre l'ambito con cui io più o meno sono nato in questo canale Ovvero l'ambito supereroi Infatti dovete sapere che mio padre ha la collezione dei primi fumetti Marvel pubblicati da Stan Lee Il padre dei supereroi Marvel E volevo quindi portarvi un video riguardo proprio a queste pubblicazioni E parlarvi un po' di come sono nati i personaggi Farvi vedere i veri numeri 1, ovviamente le pubblicazioni italiane Per farvi un po' capire come si sono evoluti i fumetti E su quale siano le vere origini dei personaggi Che purtroppo oggi molte volte vengono un po' travisate e dimenticate Avevo in teoria pensato di farvi vedere anche tutta la mia collezione di fumetti Ma purtroppo non è continuativa Non lo so, forse lo farò in futuro Però citerei tanto a fare proprio magari più di un video Magari uno riguardante i numeri 1 I vari numeri 1 che appunto ho come Capitano America, Thor, Fantastici 4, L'Uomo Ragno, Hulk e così via Proprio per farvi vedere le origini sia dal punto di vista editoriale sia dal punto di vista poi della narrazione E visto che ho questo piccolo tesoretto culturale per noi appassionati di fumetti in casa Mi avrebbe davvero fatto piacere mostrarvelo Magari però su questo argomento si potrebbe anche poi sviluppare qualche altro video Appunto come dicevo farvi vedere magari la collezione intera Per raccontarvi un po' la storia, le storie editoriali, le narrative Cose magari già viste su internet da altri Però ovviamente cercherei di portarlo in una maniera un po' diversa a modo mio Questo progetto ce l'ho già da un po' in mente Mi farebbe piacere sapere se voi siete interessati a quest'idea Un'altra cosa che forse voglio portare anche qua Vi chiedo di dirmi se vi farebbe piacere Sono due nuovi format riguardanti sempre il cinema Uno è prima dell'inizio di un mese Dire quali sono le uscite che attendo di più di un determinato mese Forse non è un format così essenziale Era un'idea, fatemi sapere se vi può piacere L'altra cosa che invece quasi sicuramente proverò È fare alla fine di ogni mese O più che altro di ogni periodo di uscite di film Ricapitolare quali sono state le pellicole che ho apprezzato di più O magari fare la medesima cosa ogni mese Per dirvi quali sono quelli consigliati, quelli sconsigliati O magari dirvi tutti quelli che ho visto e quali in verità mi piacciono Non so ancora bene come andrà la cosa Comunque sarà un po' come dire i consigli cinematografici del mese Una cosa del genere Ho la nuvola di fantozzi, spero di non dover scappare Intanto il sole non sta tornando Meglio così perché forse poi tengo gli occhi chiusi quando spunta Ti prego non spuntare Intanto dietro potete notare le nostre coltivazioni casalinghe Vedrete l'estate che si trasformerà in una giungla, fidatevi Cazzo, un'altra goccia Un'altra idea che ho avuto E questa quasi sicuramente la porterò a me Ci vorrà un po' di tempo Ve la spiego bene Come avete visto se seguite il mio canale O se siete nuovi andatevi magari a recuperare Ho fatto delle specie di ricapitolazioni Del cosiddetto Marvel Cinematic Universe Ovvero l'universo cinematografico della Marvel Per propri meno esperti quello di Thor, Capitano America, Iron Man Eccetera eccetera Una serie di tre o quattro video Comprese appunto le serie tv Sta tornando il sole ma mi sa che è dietro un comignolo Quindi non mi illuminerà Dicevo una serie di tre o quattro video dove cerco di spiegare un po' la trama Di tutti questi film Che sono appunto in un unico Universo condiviso Per cercare di spiegare magari retroscena più da fan dei fumetti Per cercare di chiarire la trama a chi magari non l'ha ben chiara A chi magari non ha visto tutti i film E ovviamente anche a dare un mio parere sullo sviluppo e i vari film Partendo da questa base volevo fare una specie di cosa simile Però parlando prettamente della trama di ogni film Facendo una specie di Marvel Cinematic Universe in dieci minuti Siccome appunto è diviso in tre fasi Tre gruppi di film Per ogni gruppo di film potrei spiegare in dieci minuti La trama di ognuno di questi gruppi di film Cercando di trattenermi sulle cose principali Non penso in maniera ironica Una cosa volta proprio a chiarire ancora di più la trama A chi non l'ha capita poi così bene E via dicendo tutto quello che ho detto prima Mi sembrava un'idea carina Anche proprio per riuscire a spiegare bene Cosa è successo nei vari film Forse aspetterò l'uscita di Guardiani della Galassia 2 Non lo so, vedrò Però mi sembrava un'idea davvero interessante Che mi potrebbe piacere Devo un po' vedere le tempistiche Devo ancora decidere Però un'idea che mi interessava davvero tanto Non so se a voi potrebbe interessare Scrivetemelo nei commenti Nel caso fosse così Queste più o meno sono le novità principali Che vorrei portare sul canale Non so se le farò Vedrò Alcune come vi ho detto Sono quasi più certo Di vorrei provare a farle Altre sono solo idee Direi che ho finito qua Io spero sempre che voi appreziate Il nostro continuo cercare Un miglioramento nella qualità Quasi sicuramente Come ho già detto in altri video Ci sarà un rallentamento Per quanto riguarda l'uscita dei video Le proponevo uno ogni due giorni Ma mi sa che non riuscirò più a farlo Anche perché alcuni video Di alcuni film meno famosi Non andavano E quindi Non per mia mancata voglia Ma era una mole di lavoro in più Che poi non vedeva nessuno E quindi Secondo me È meglio levarli Per lasciare anche più respiro Al canale E non riempirlo di video A caso Quindi magari La cadenza diventerà Di ogni tre Quattro giorni Ma magari a volte Poi pubblicano un video Subito il giorno dopo Ogni due giorni Dipenderà un po' Ma sarà di più ampio respiro Io concludo col video Anche perché sta Pioviginando Ma porca di una miseria Vi ringrazio per la vostra attenzione Spero davvero Che il canale Come stia andando Vi piaccia Noi ci impegniamo Sempre di più In base al tempo che abbiamo Ovviamente È solo un hobby Io vi saluto Vi ringrazio tanto Per il vostro supporto Vi ringrazio di seguire I miei video Sia che siate iscritti Sia che non lo siate Anzi Se non siete iscritti Iscrivetevi Che cazzo Io vi abbraccio tantissimo Noi ci vediamo Alla prossima E fatemi sapere Se vi piace Questa inquadratura All'aperto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti